Sono emozionato perché la Fiorida rappresenta la sintesi del lavoro di una vita intera, non solo mia ma di tante persone che mi sono vicine tutti i giorni. La sintesi di un percorso di tanti sacrifici, di tante notti insonne, di tante gioie, anche di tante delusioni. L'igno rappresenta l'essenza vera dell'essere lombardo, è una persona alla quale bisogna dire grazie, perché se la Lombardia è grande è perché i lombardi sono grandi. Io condivido con mio papà la passione per gli animali fin da quando ero davvero davvero piccola. E questa passione è diventata vita. Vito è un formaggio che racconta la storia, racconta una storia importante, la storia di tante fatiche, di tanto, tanto, tanto impegno. Grande grazie a tutti e a tutta la grande squadra che come sempre lavora con entusiasmo e con passione qui in Fiorida. E' grande arrivederci per il settembre 2023.